Il mio padre non mi vuole mandare al liceo artistico e guarda che vita di merda che faccio. Allora, Ernesto, per favore. Agli ordini. Ernesto? Che piacere. È una mostra tutta mia. Con le tue cose migliori. Così gli diamo la bella svegliata a questo paese di Terroni. Ci vuole arte, non come a quella di tuo padre. Alzare la gonna di una signorina vera, quello sì che è difficile. Poi, fratello, da qui se ne devi andare. E poi scusa per chiedermi di far da serva a stucca papà. Ma che serve serva? Con una sorella come la tua madre? Che mi devo sposare a fare? Mi sono male. Io ho un altro giorno di malattia, poi devo tornare a lavorare. Perché può essere che mi mandano la vista fiscale. Eh, la vista fiscale. Hai visto? Scappa, Gabriele, scappa, scappa. Dottore, papà sta molto malato. Sì, vai, vai, vai. Sì, vai, vai. Tu, Franca e Gabriele, siete tutto quello che ho. E soprattutto tu, che potresti essere mio padre, come mio padre. Vabbè, mio fratello maggiore. E c'è una dragozza per me, scusa. Oh, buonasera, maresciallo. Mi raccomando, ricordatevi della mostra. Certo, Rossetti. Senti, come mi batte il cuore. Rossetti, tu ti sei dato un compito impossibile. Tu non puoi stare sempre in guerra con tutti. Ma allora non hai capito niente. Tu gli puoi portare pure la gioconda di Giovanni Pascoli. Sembra una di schierna schifezza. E adesso giudicate voi.